Germania Corazzata contro Germania dell'Ovest Corazata contro Germania 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 Comunismo Via 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 Comunisti via Corri 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 Oh la giù Le chiesto Corri 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 corri했던 Corri 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 correcto Ero Corri 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 Te dira Capitano Equipage, benvenuti a porto Esatto, siamo a posto Pulito come il culo di un bambino Voi, qua dentro Voi, dentro Voi, nel centro Sento già il mare Sento già il mare Non mi piace No, non mi piace Sento già il mare Ok, lo vediamo Senti già la squadra Sento già l'aria 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 Sai l'aria no grandissimo no portate qua veicoli un paio di afghans che si portano qua perché ho visto che portate qua o portate qua eiduomida che cosa vien 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 aaa 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 non scriegato vien scappa 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 eiduomida città vien 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 se posso se non abbiamo più nieri altra fronte Che cosa faccio? Che cosa faccio? Chiava che faccio? Che cosa faccio? Che cosa faccio? Che cosa faccio? Non esclare! Non esclare! Ok, ho fatto. Non... Che cosa faccio per la vostra pescola, sr? Che cosa faccio? La pescola e la loro armature. Non è vero discutere i miei precedenti sui riscaldi, sr. Voi serviti, sr. Perchè vedere che riesco a fare il giro? Patrici! In giro. Che piro! Non è vero! 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 Cosa è vero? Che cosa faccio? Non è vero! Non è vero! Ok... Non è vero! 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 Ma la colonna comunista! task force comunista non è per il culo logistici mancati se non ho gli aeri non sto bene non è vero oh il comando amico GG, secondo me sono andato a nascondere il PTR, Cocaine e Leopard sono andato con gli occhi non posso sbagliare non posso sbagliare dove è la C dai che vinciamo la partita con questo qua io punto che il nemico e dalla velocità che ha sganciato c'è la PTR quindi la mia precisa idea adesso gli facciamo girare il B5 sperando che non abbia ancora il radar accesi facciamo fare posizione di Fulcana e le cose sono giuste sgancia la bomba scappa perché gli radar sono spenti adesso li ha accesi ovviamente quindi mi incula e vabbè bella B5 e ho vinto la partita grazie a tutti